Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche e romantiche per la seconda metà di giugno 2024. Il Papa, amici della Vergine, periodo di ufficializzazioni, per qualcuno si può trattare di una guida o per qualcun altro semplicemente una fessa, una cerimonia, perché no? Potrebbe anche essere un matrimonio, la decisione di andare a convivere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024, per quest'estate e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Andiamo a vedere per chi ha qualcuno in testa o per chi è in una relazione che aria c'è nella seconda parte di giugno. Partiamo con un 5 di coppe, un cavaliere di bastoni, la torre, una carta che è caduta e che adesso recupero, 10 di pentacoli, 4 di spade, recupero un attimo la carta e 8 di pentacoli. Allora ragazzi, qua partiamo da un 5 di coppe che non è una bellissima carta sinceramente. È una carta di tristezza, mi viene da dire. È una carta di qualcuno che o si è lasciato indietro qualche cosa o ha perso qualche cosa. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi farò gli esempi sul se avete una relazione stabile piuttosto che una relazione agli inizi, piuttosto che una relazione non ben definita, insomma. E un'altra cosa, parlerò della vostra energia e dell'energia dell'altra persona, ma in questo caso, in questo tipo di letture, potreste anche sentire le energie all'inverso. Allora, andiamo a vedere questo 5 di coppe. Se siete single o se volete vedere le previsioni per la famiglia, i figli, piuttosto che gli amici, ho già pubblicato queste letture, le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora abbiamo un'altra di bastoni per il 5 di coppe e la carta degli amanti. Che interessante! Non so perché questo 5 di coppe, cioè vedendo queste due carte, è una buona energia, però questo 5 di coppe mi dice che c'è come qualche cosa che appesantisce o la relazione o la conoscenza con questo re di bastoni. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Cavaliere di pentacoli e fante di pentacoli. Voglio andare a vedere anche la torre. Perché il 6 di bastoni è l'arcano minore del papa. Allora qui abbiamo carro, 4 di coppe e 4 di pentacoli. Dunque ragazzi, ho la sensazione che qui questo papa sia qua per dire che c'è bisogno di trovare un punto medio. Qualche tipo di risultato secondo me è arrivato, ma non è quello che vi aspettavate. Ovvero, ho come la sensazione che le cose siano lente. Sì, è vero, c'è un progredire, però le cose, come vi dicevo, sono molto lente. C'è paura di sbagliare, c'è paura di fare un passo falso. E vi dirò che questo papa, per qualcuno, fa riferimento al fatto che l'altra persona, o magari voi, uno dei due, insomma, che si è già sposato, che si è già in una relazione. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Re di pentacoli, sole e regina di coppe. Devo dire che il sentimento con questa persona è piuttosto forte. Sento che la relazione potenzialmente può crescere, anche se in modo lento, perché magari ci sono delle situazioni già esistenti che distraggono, che rallentano, però comunque potenzialmente sento che si può costruire effettivamente qualcosa. Andiamo a vedere questo dieci di pentacoli. Abbiamo di pentacoli. E come? Allora, per qualcuno è successo qualche cosa tra di voi, vi ha fatto dubitare dell'altra persona, ma è come se nella seconda parte di giugno le cose piano piano riprendessero ad andare avanti. Vi dico piano piano perché non sento, ragazzi, che siate sulla stessa lunghezza d'onda. O come la sensazione che voi vorresti di più, mentre l'altra persona non vuole le stesse cose che volete voi. E per quello che probabilmente c'è anche la carta del papà, come per dire, trovate un punto medio, anche se sento che ci state lavorando. Adesso andiamo a vedere questo 4 di spade, 9 di spade e giudizio. Credo che abbiate bisogno di tempo per rendervi conto realmente di quello che è la relazione. Perché io credo che questo 5 di coppe sia molto collegato al 9 di spade. La vostra testa, quello che avete sofferto, quello che avete patito. Però qui con la carta del giudizio è come se ci fosse bisogno di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Ripeto, per qualcuno potrebbe anche fare riferimento questo papà al cercare una guida tra di voi che possa mediare la situazione. Allora, scusate. Partiamo dalla relazione giovane, cioè nel senso per chi si sta conoscendo o per chi ha una relazione iniziata da pochissimo. Devo dire che voi siete partiti in quarta. O come è la sensazione che siate presi bene da questa persona, ma ci sia una sottile paura, come per dire ma è troppo bello per essere vero, dov'è la fregatura o cose di questo genere, no? Fate attenzione a non autosabottare la relazione. Per quello che riguarda invece l'altra persona, devo dire che un po' più guardinga, un pochettino più sulle sue, un po' più sulla difensiva, come questa sensazione. potreste non essere esattamente sullo stesso livello, cioè nel senso di non voler esattamente le stesse cose, ma ho come l'idea che insieme vi troverete bene, vi troviate bene. Per quello che riguarda invece le relazioni di lunga data, o comunque già esistenti, diciamo così, anche qui sento una maggior propensione da parte vostra rispetto all'altro, ma io credo che l'altra persona stia attraversando un momento di cambio nella sua vita, un momento dove per qualcuno è successo un licenziamento o comunque un qualche tipo di cambio inerente al lavoro e quindi è come se ci fosse una sorta di destabilizzazione in questo periodo che non permette alla relazione in sé di espandere come voi vorreste, però è solo diciamo una sorta di rallentamento in realtà, anche perché con questo sei di bastoni qualcosa mi dice che qui le cose sono ufficiali o se non lo sono ancora lo diventeranno. Qui sono due figure di pentacoli, quando sono figure di pentacoli è perché la cosa è concreta, magari lenta, però concreta. Se siete in una relazione ni, cioè nel senso che non è ben definita, qui ragazzi ho la sensazione che voi abbiate chiaro in testa che cosa volete, quale sia il tipo di relazione ideale, il potenziale con quest'altra persona, mentre l'altra persona diciamo che ancora intenta leccarsi delle ferite per cui non vede ancora tutto il potenziale che la relazione ha e con questo 9 di spade devo dirvi che ci sono tante preoccupazioni legate al passato, queste potrebbero anche essere le vostre perché c'è un 5 di coppe qui, come se ci fosse una sorta di tristezza latente. Andiamo a vedere una carta ancora per questo giudizio. Regina di bastoni, re di bastoni. Io credo che qua cambierete attitudine nei confronti del partner. Molte persone smetteranno di avere la modalità stand by, la modalità vittima, la modalità non posso fare altro che aspettare, non posso fare altro che accettare, insomma c'è una sorta di staticità con questo 5 di coppe, ma sento che con la regina di bastoni questo cambierà, cambierà il vostro modo di porvi, cambierà il modo di vedere la relazione, cambierà il modo di esprimervi, sento che è come se ci fosse una sorta di espansione nei confronti dell'altro che però non... come vi posso dire? Espandersi nei confronti dell'altro non vuol dire perdersi nell'altro, ma ok, resto aperta, resto disponibile diciamo, però io intanto mi faccio la mia vita, io intanto esco, coltivo i miei interessi, insomma faccio quello che mi fa star bene. sento che con l'altra persona la cosa difficile è trovare un accordo, un punto di incontro, è per quello che probabilmente avete il Papa qui, eh, come se ci fosse bisogno proprio di una guida, e vi dirò che per qualcuno potrebbero essere degli amici, le persone che vi aiuteranno in questo periodo, magari appunto trovare questo punto di incontro, diciamo che il grosso del lavoro secondo me deve farlo l'altro, su se stesso intendo, andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura, ragazzi. Credi nella magia, apri gli occhi e osserva il magico che è tutto intorno nella natura. La fata della luce del nord dice che siete parte della natura, così che anche voi siete magici. Vi manca un mago, la sento un po' collegata con la carta del mago questa, per la serie del legge di attrazione, quello che credo, creo. Se io credo che tutto sia magico intorno a me, creo magia intorno a me. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete commentare, potete lasciare, l'ho già detto, scusate, sono un po' bollita arrivata a quest'altura. Stavo dicendo, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete lasciare una piccola donazione, scrivermi per prenotare una sessione individuale nel caso vogliate una lettura o un percorso di crescita con me e se poi volete andare a vostro ritmo c'è sempre l'opzione di abbonarsi al canale, lì sono come una scuola, diciamo così, di metafisica che insegna come cristallizzare i chakra, come lavorare su se stessi, come migliorare insomma. Bene, detto questo, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!